EQUAZIONI DI PRIMO GRADO Beh, risolvere un'equazione di primo grado significa trovare una soluzione all'incognita, cioè una soluzione da sostituire al posto dell'incognita in modo tale da ottenere un'identità. Quindi supponiamo di avere ad esempio 2x più 1 uguale a 0. Risolvere questa equazione significa trovare un valore della x tale che moltiplicata per 2 e sommata ad 1 vi restituisce il valore 0. Concordate con me sul fatto che se riuscite ad ottenere un qualcosa del tipo x uguale ad una quantità, ad un numero, allora avete risolto il problema perché avete trovato qual è questo numero. E come si fa ad arrivare ad un'espressione tipo x uguale ad una quantità numerica? Beh, dovete semplicemente, tra virgolette, isolare la x. Isolare la x che significa? Significa tenerla da una parte e spostare tutto quello che non ha la x dall'altra parte. Quindi è questo quello che dobbiamo fare, cioè, ad esempio, spostare tutti i termini che hanno la x a sinistra e spostare tutti i numeri a destra, o comunque tutto quello che non ha la x a destra. In questo modo l'avete isolata. Dopodiché con una serie di passaggi algebrici riuscite ad ottenere proprio il valore della x. Adesso andiamo a vedere come si fa. Allora, prima cosa dobbiamo isolare i termini con la x. Quali sono i termini con la x qui? Abbiamo soltanto il 2x, quindi 2x lo lasciamo ad esempio a sinistra. Il numero 1 non ha la x, quindi che significa? Che dobbiamo spostarla all'altra parte, quindi uguale. Se spostiamo, come già vi ho detto nel video precedente, un termine da sinistra a destra o da destra a sinistra, dobbiamo cambiargli il segno. Quindi qui abbiamo più 1, questo diventa meno 1. Come vedete abbiamo isolato il 2x, però a noi serve la x. Come facciamo a far sparire questo 2? Per far sparire questo coefficiente della x, dobbiamo dividere tutta l'equazione per 2. Vi ricordo che dal secondo principio di equivalenza, che abbiamo visto nel video precedente, si può dividere o moltiplicare per una stessa quantità diversa da 0 tutta l'equazione. Quindi in questo caso usiamo il secondo criterio di equivalenza e dividiamo tutta l'espressione per 2. Quindi cosa andiamo a fare? 2x diviso 2 uguale a meno 1 diviso 2. Ora il 2, il 2 si semplifica e quindi ci tira fuori che la x è uguale a meno un mezzo. E come vedete questa è la nostra soluzione, perché abbiamo ottenuto x uguale ad un certo valore numerico. La domanda è, ma questo meno un mezzo è la soluzione corretta? Beh, bisogna effettuare la verifica in realtà, perché magari avete svolto dei passaggi in maniera errata. Quindi prendete questo meno un mezzo e lo sostituite all'equazione di partenza, al posto della x. Quindi viene 2 che moltiplica e questo è un modo per fare la verifica, quindi vi consiglio di farla. Una volta trovata la soluzione andate a sostituirla. Quindi 2 che moltiplica meno un mezzo più 1 uguale a 0. Allora 2 per meno un mezzo, il 2, il 2 semplifica e rimane meno 1. Quindi meno 1 più 1 uguale a 0. Quando fate la verifica ovviamente dovete ottenere un'uguaglianza. Dovete ottenere un'identità, scusate. Meno 1 più 1 fa 0, 0 è uguale a 0. Sì, quindi che significa che meno un mezzo è la soluzione corretta di questa equazione di primo grado. Adesso andiamo a vedere anche altri esempi per capire meglio come si risolvono questo tipo di equazioni di primo grado. Allora supponiamo di avere 3x meno 1 uguale per esempio a meno, facciamo 5x. Allora qui che cosa dobbiamo fare? Come al solito dobbiamo isolare da una parte tutti i termini con la x e dall'altra parte tutti i termini senza la x. Allora decidiamo qui di spostare tutti i termini con la x a sinistra. Ovviamente voi potete anche spostarli tutti a destra, è la stessa identica cosa, però per semplificare il numero di passaggi da fare, per ridurre il numero di passaggi da fare, vi conviene spostare i termini con la x in un posto dove riuscite ad ottenere un valore positivo. Ad esempio se io sposto il 3x dall'altra parte mi viene una x poi negativa e quindi poi devo moltiplicare per meno 1 quindi è scomodo. In questo caso conviene, poi con l'esperienza ve ne rentrete conto, vi conviene spostare il meno 5x a sinistra. Quindi facciamolo, quindi 3x che rimane a sinistra perché è già a sinistra, spostiamo questo meno 5x dall'altra parte e diventa più 5x perché cambia di segno. Il meno 1 lo spostiamo dall'altra parte e diventa 1. 3x più 5x sono, vediamoli come due monomi simili, quindi si possono sommare. 3x più 5x viene 8x uguale ad 1 e quindi, visto che qui c'è un coefficiente, dividiamo tutto per quel coefficiente e otteniamo x uguale a 1 ottavo. Cioè abbiamo diviso tutta l'espressione per 8. Ovviamente se voi andate a sostituire 1 ottavo a questa espressione vi verrà il risultato corretto. Vediamo un altro esempio per farvi capire tutti i casi che vi possono capitare. Supponiamo di avere, ad esempio, facciamo meno un mezzo x più 1 uguale, facciamo 3 mezzi x. Allora, cosa succede qui? Anzi, non facciamo 3 mezzi ma facciamo 2, no anzi facciamo 5 va. Facciamo 7 dai, li sto cambiando tutti, anzi facciamo, vabbè facciamo 7 dai, vediamo cosa succede. Allora, qui che cosa andiamo a fare? Dobbiamo spostare i termini con la x da una parte rispetto ad un'altra. Beh, qui conviene spostare tutti a destra, perché? Perché il termine con la x più grande sta a destra, quindi conviene spostare quello a sinistra e a destra e tenere uno dall'altra parte. Quindi, uno lo teniamo a sinistra, quindi non viene cambiato il segno, meno un mezzo x lo spostiamo a destra, quindi diventa un mezzo x più 7 mezzi x che rimane dov'è e quindi il segno non cambia. Qui che cosa abbiamo? Quindi uno uguale, sommiamo questi due termini, abbiamo un mezzo più 7 mezzi che diviene 8 mezzi, quindi 8 mezzi x. 8 mezzi in realtà è 4, quindi abbiamo uno uguale a 4x, abbiamo un coefficiente, dividiamo tutto per 4 e quindi diviene un quarto uguale ad x. E quindi la x è uguale a un quarto, quindi questa è la nostra soluzione. Vi faccio vedere un'altra cosa e poi abbiamo finito con il discorso equazioni di primo grado, come si risolvono. Supponiamo di avere due terzi x uguale ad 1. In questo caso cosa dobbiamo fare? Beh, non dobbiamo spostare nulla, perché i termini con la x sono a sinistra e quelli senza sono tutti a destra, però cosa dobbiamo fare? Dobbiamo far sparire questo coefficiente, che è un coefficiente frazionario. Come si fa per farlo sparire? Beh, si moltiplica tutto per il denominatore e si divide per il numeratore, cioè si moltiplica prima tutto per 3 e quindi cosa otteniamo? 2 terzi per 3x uguale 3, perché è 1 per 3 che fa 3, quindi il 3 e il 3 si semplifica e poi ci rimane questo 2, che viene eliminato banalmente dividendo per 2, quindi che cosa abbiamo? x uguale a 3 mezzi. Potevate sbrigarvele in maniera più semplice dicendo la seguente cosa, basta moltiplicare tutta l'espressione per l'inverso della frazione, cioè noi come coefficiente abbiamo una frazione, moltiplichiamo tutta l'equazione per l'inverso di quella frazione. In questo caso l'inverso di 2 terzi è 3 mezzi, quindi moltiplichiamo tutto per 3 mezzi e vediamo cosa succede. 2 terzi per 3 mezzi, x uguale a 3 mezzi. Come vedete il 3 è 3 semplifica e il 2 è 2 semplifica e quindi rimane x uguale a 3 mezzi, che è il risultato che abbiamo trovato anche prima. Ma questa è una cosa abbastanza ovvia perché se moltiplichiamo una frazione per la sua inversa otteniamo ovviamente 1 perché si vanno a semplificare ad incrocio. Quindi diciamo che come si risolvono le equazioni di primo grado, quelle semplici come in questo caso, diciamo che dovrebbe essere abbastanza chiaro. Ora la domanda è, le equazioni di primo grado hanno sempre una soluzione? Se sì, quante sono queste soluzioni? Le equazioni di primo grado possono essere determinate, impossibili e indeterminate. In realtà queste definizioni sono molto semplici da capire. Allora cosa stiamo dicendo? Determinata significa che l'equazione di primo grado ha una sola soluzione. Quindi la soluzione esiste ed è una sola. Quindi l'equazione determinata è questa, sono tutte quelle che abbiamo visto fino ad adesso. Questa cosa adesso non la capite, ma vi dico già adesso che l'equazione di primo grado può avere al massimo una sola soluzione. Può averne una, infinite, oppure nessuna. Non può averne due, tre, quattro perché è un'equazione di primo grado. Tutto qui. Poi, quant'è che un'equazione si dice impossibile? Beh, lo dice la parola stessa, significa che non esiste nessuna soluzione. Cioè l'equazione non si può, non è verificata, non si può risolvere. Vediamo subito un esempio. Supponiamo di avere x più 3 uguale a x. Questa equazione è impossibile. Perché? Perché qualsiasi valore voi andate a inserire a posto della x, non potete ricondurvi ad un'identità, che è quello che dovreste fare quando risolvete un'equazione. Perché questa cosa non si può fare? Perché la x è presente sia a sinistra che a destra, però a sinistra gli viene sommata una quantità. Quindi se voi prendete la x e gli sommate 3, non può venire uguale alla x. È come dire, ad una quantità gli sommate una qualsiasi quantità e tutta questa quantità deve essere uguale alla quantità di partenza. Questa cosa ovviamente non è possibile. Quindi questa equazione è impossibile. Quindi diciamo che in generale un'equazione si dice impossibile quanto non si può risolvere. Cioè voi fate tutti i calcoli e è arrivata ad un assurdo, ad un qualcosa che non si può verificare. In determinata significa invece che l'equazione di primo grado ha infinite soluzioni. Significa che facendo una serie di calcoli vi riconducete in realtà ad un'identità. Vediamo subito un esempio. Supponiamo di avere 2x più x più 1 uguale a 3x più 1. Questa equazione è un'identità in realtà perché abbiamo 3x più 1 uguale a 3x più 1. Quindi che significa? Significa che questa equazione è indeterminata, cioè ha infinite soluzioni. Qualsiasi valore andate a inserire apposta della x, l'equazione si dirà essere verificata. Ricapitoliamo un attimino. L'equazione di primo grado si risolve banalmente spostando tutti i termini con la x da una parte e tutti i termini senza la x dall'altra parte. Poi con una serie di passaggi algebrici ci si conduce a x uguale a una certa quantità. L'equazione di primo grado può essere determinata, impossibile e indeterminata. Cioè può avere una soluzione infinite oppure nessuna. Non può averne 2, 3, 4 eccetera eccetera. Può averne o una o nessuna o infinite. Questa cosa è molto importante. Con questo video abbiamo terminato. Come al solito se avete piaciuto metti un mi piace, commenta, condividi e ci vediamo al prossimo video. Grazie a tutti.